Buon sabato e bentrovati alla ventiduesima puntata di... Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai Vabbè, ma che c'è in tramina adesso, scusa? Proprio mai Ah, vedi, puntata ricca di ospiti, vabbè, facciamo finta Parole, parole, parole Parole, parole, parole Va bene, allora, ti ho rubato la scena, è per questo? Parole, eh Come sempre, come sempre mi ha rubato la scena Vabbè, diciamo che questa puntata è iniziata veramente in maniera canora, canterina, simpatica Mi fa piacere, però adesso possiamo lanciare la sigla insieme Abbiamo fatto pace, al volo Non cambi mai, non cambi mai 3, 2, 1, sigla Classic Drive Art Live Classic Drive Art Live Eccoci, benvenuti questa volta seriamente Benvenuti Alla ventiduesima puntata di Classic Drive Art Live Ricordiamo da me, da Pierpaolo Oberdan Fradosio e da Alessia Polimanti Siamo qui nella libreria nel quartiere San Lustiano, in Rione San Lustiano di Roma Libreria Mondadori di Via Piave, che ci fa da cornice, ringraziamo anche loro E siamo qui alla ventiduesima puntata del programma culturale in diretta Forse il primo che riguarda la cultura motoristica, letteraria, artistica Si fondono tutte insieme, eh, adesso è vero Un purpurri Un purpurri Eh, sì Quindi Si preannuncia una puntata ricca di ospidi Dal mondo dello spettacolo, della cultura letteraria, anche musicale Inizieremo con Enrico Petronio, uno scrittore romano, anche sui generi, se un po' possiamo dirlo Che ha appena pubblicato un volume autoprodotto Adesso vi presento Shakespeare Force, in cui argomenta un rapporto inedito tra William Shakespeare e l'astrologia Insieme giocheremo anche un po' con i nostri, e se vorrete anche i vostri, segni zodiacali Dopodiché sarà la volta di un duo comico, che abbiamo visto sulle più importanti reti televisive Ultimamente, eh, padroni di casa, eh, di Made in Sud Programma in prima serata, eh, della seconda rete televisiva Ma che conosceremo questa volta in una veste inedita Eh, hanno infatti ideato un romanzo, La Maledizione dell'Acciaio Eh, scritto da un autore giovanissimo, classe 1993 Lui è Oreste Ciccariello E anche insieme a lui parleremo di questa, di questa storia Che ruota intorno al Little Cedar di Bagnoli Una trama, eh, drammaticamente attuale Che per l'appunto tratta la morte per materiali tossici Bene, continueremo poi a parlare di cultura Questa volta musicale, con il giornalista cantautore Ernesto Bassignano Beh, è storico, storico della musica italiana Perché iniziò, no, la, diciamo col folk studio Insieme a Antonio Venditti e Francesco De Gregori E poi insieme con lui parleremo, eh, un po' di quegli anni Degli anni 70, la contestazione, il 68, perché no? Dello scorso secolo, chiaramente Perché ormai siamo nell'altro Anche Ernesto, rifletteremo sui vari temi Ernesto poi è sensibile ai problemi derivanti Dall'inquinamento di fabbriche in chiusura, no? L'inquinamento di fabbriche chimiche Perché si è occupato, appunto, di creare una canzone Di cantare e creare una canzone da bravo cantautore Per gli operai dell'Ilva di Taranto Quindi, insomma, immancabile poi ci sarà Ilaria Berti La nostra amica, no, girovaga Assolutamente, la nostra giramondo Giramondo Immancabile Immancabile, tra l'altro parlerà, chissà dove ci porterà Forse nel Lazio questa volta Nel Lazio Diamo questo indizio Nel Lazio, quindi la rubrica di viaggi con Ilaria Dopodiché Federica Storace, insegnante, scrittrice Autrice di 14 storie Raccolte in un libro Ci parlerà appunto di questo È impossibile Impessibili, ma non troppo il titolo Quindi faranno riflettere queste storie Soprattutto gli adolescenti Esatto Quindi ormai lo sapete Gli ospiti vi li abbiamo preannunciati Iniziate a scrivere Se avete qualche curiosità Qualche domanda Proprio nel box sotto la nostra diretta Se la puntata vi sta piacendo Iniziate a condividerla sui vostri profili social Se volete mettete anche un like Alla pagina di Classic Drive Art E per essere ospiti Qui nella prossima puntata Inviate una mail con la richiesta A infochiocciola ClassicDriveArt.com Bene, direi che siamo pronti Ad accogliere il primo ospite Della puntata Sarà particolarizzato Preparatevi Preparatevi Ne vedrete delle belle Però con questo video Che adesso manderà la regia Shakespeare conosce L'astrologia naturale Le cui tesi sono elaborate Da Filippo Melantone Umanista, teologo Astrologo Amico di Lutero Discusse all'università di Wittenberg Dove guarda caso Si dice abbia studiato Amleto Il più complesso Il più grande Fra i personaggi shakespeariani In tutte le sue opere Shakespeare esalta Il potere della natura Un imprinting Che non si può ignorare Tu, natura Sei la mia idea Alle tue leggi I miei servigi sono legati Una presentazione self-made Come la sua prima pubblicazione Adesso vi spiego Shakespeare forse Buongiorno Non è detto Quindi che ce l'ho spiegato Non è detto Ecco Enrico Petronio Benvenuto È un vero piacere per me Presentarti E nel video che abbiamo appena visto Tu che fai Sostieni che Shakespeare Conosce l'astrologia naturale Sì Aspetta Ma quando è iniziata Questa tua ricerca? La ricerca è cominciata In una notte buia Di ottobre Di due anni fa Ed è cominciata Per disperazione Ci tengo molto A quella disperazione A quel forse Perché Perché la disperazione Ti toglie qualsiasi tipo Di sovrastruttura Di ambizione Cioè Da un enorme spazio Alla creatività E il forse Nel libro E ci tengo a quel forse No perché io non ho le prove Di quello che dico Ah ecco E meno male Che non ho le prove Su cosa si basa Questa argomentazione? Su un gioco Un'intuizione Cioè mi sono chiesto Di che Di che signo zodiacale Potessero essere I personaggi di Shakespeare Dopodiché ho cominciato Una certa verifica Ho detto Se devo raccontare a qualcuno Questa cosa Dovrò dare delle prove E lì mi si è aperto Un mondo Ah E adesso Un mondo fatto di dati storici Di ricerche anche serie Quindi io non sono un astrologo Perché è il dia di Dio Bene Io adesso mi occupo di mettere in relazione L'astrologia Che si conosceva ai tempi di Shakespeare Anzi era ancora scienza Stava cominciando a diventare parascienza Con Shakespeare Molto bene Bene E proprio Shakespeare Ti rivolgi con un appellativo Anche curioso Cioè lo zio Willy Ecco volevo chiederti innanzitutto Perché E quanto ti è servito Farti amico Questo zio Willy Guarda Ti rispondo a voi All'inizio della trasmissione Avete cantato Parole 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 di Mina Della signore Della signora E lo sai che parole 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 È una citazione di Shakespeare Eh vedi E questa è stata Amleto Amleto Quando chiedono Ma era tutto previsto Era assolutamente Modestamente Ma certo E noi ne vedremo altre Di queste coincidenze Amleto sta lì Solo soletto Che si legge un libro Nei corridoi scuri Del castello di Danimarca Arriva Polonio Il ministro Pesantone Noioso Gli chiede Che cosa sta leggendo Principe E lui gli risponde Parole 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 Grazie per questo Il progetto Dello zio Willy È questo Io odio le persone Che si prendono Un po' troppo sul serio E quindi Io che prendo Molto sul serio Shakespeare E i mostri Di Shakespeare Perché di mostri Si parla Mostri nel senso Di prodigi umani Ecco E ho deciso Di farmi gli amici E quindi Non dissacrarli Insomma A me dispiace Quando della bellezza Si ha un'idea Un po' Statica La bellezza Va venerata E ammirata E basta La bellezza Va usata Va goduta In qualunque Con rispetto Spero di averne Ma facendosi amici Quei mostri E così Giocandoci anche un po' Bene Quindi abbiamo Abbiamo visto Prima un video Molto divertente Qui appunto Ti prendevi poco Sul serio Quindi questo Lo abbiamo Visto E ora Volevamo vedere Una sorta Un video brevissimo Di una lezione In cui appunto Argomenti Sempre questo rapporto Tra Shakespeare E l'astrologia Sul fatto che Si sia ispirato Proprio all'astrologia Nel delineare Alcuni suoi personaggi E poi orientarli Nel bene e nel male Quindi vediamo Questa breve lezione Che ci dà Enrico Petronio Dopodiché preparati Perché siamo pronti A giocare con te Facciamo l'oroscopo Esatto Vediamo Allora Non bisogna cadere Nel tranello Di pensare Che ci siano Segni zodiacali Buoni O segni zodiacali Cattivi Che alcuni segni Siano migliori Di altri Non è così Non ci sono Personaggi shakespeariani Solo buoni O solo cattivi La grandezza De Shakespeare È stata proprio Quella di aver creato Dei personaggi Che hanno tutti Una parte Di bene E una parte Di male Tutti i personaggi Shakespeareani Anche i più Apparentemente Innocenti Hanno in realtà Qualcosa Da farsi perdonare Tutti i personaggi Più cattivi Sono stati però A loro volta Vittime Del male Di qualcun altro Shakespeare Secondo me Si è semplicemente Ispirato Al segno Zodiacale Per poi Scegliere Se svilupparlo Verso il bene O verso Il male Eccoci Quindi Shakespeare Conosceva L'astrologia Perché a questo punto Siamo curiosi Noi di conoscere Però I personaggi Che hai qui Al tuo fianco Questi due Loschi Simpati Noi due Per carità Però anche un po' Loschi Figuriamo Beh certo Io sono scorpione Un po' Losco Sono Ti senti Sì sì È questo Lo spirito proprio Del programma Farti sentire Strittone Aiuto Aiuto Che puoi essere Un capricorno Di qua Uno scorpione Di là Ecco E tu sei? Un sagittario Ah io sono fra voi due Io sono fra voi due Perché io sono sagittario Fra dopo lo scorpione Per il capricorno Però ecco Di solito si dice Sono tra due due Invece in questo caso Sei tu il segno del fuoco Io sono al fuoco Ma sono messo in questo Ho un tantinello d'ansia Vai Raccontaci un po' Di questi due segni Ma giusto per me Quindi è presente Al pubblico Giulietta Giulietta Granitica Ambiziosa Giulietta vuole sposarsi Ah Bene Parliamoci chiaro L'amore Il sesso Fino a se stessi No Vuole Come dice Beyoncé Put the ring on it Ti vuoi sposare Dicono Cioè L'astrologia Quella grande Quella ufficiale Dice che Il capricorno È il segno Delle grandi realizzazioni E no E a parte le scherze Giulietta vuole veramente Costruire un grande progetto Suo D'amore Dice L'astrologia ufficiale Siete personaggi concreti Pazienti Lavoratori Seri Profondamente autonomi Indipendenti Costruite Costruite lungo tutta una vita Ed è quello che vuole fare Giulietta Il vostro Dato che Dice sempre L'astrologia ufficiale Quella grande Interessante Ogni segno ha un suo Una sua mancanza Una sua lacuna E Shakespeare Questo lo rappresenta Chiaramente Con il grande monologo Della fiale Di Giulietta Quando lei sta per prendersi la chiava La fiala E sta per mandarla giù Ecco appunto Il lapsus freddiano Ciao E È invasa Dalle paure Ha un attacco di panico Giulietta Ha un attacco di panico La parte più morbida Del capricorno È quella di Ruche Riesce a fronteggiare Le proprie paure I sentimenti più profondi Quelli che lei Seppellisce In un certo senso Sotto la La grande notte invernale Del capricorno È una bellissima espressione Di pesatori E qua Alla mia destra Abbiamo Vi presento La regina di Sicilia Detta così Potrebbe anche sembrare Altri lapsus freddiano No c'è un personaggio Affascinante Il personaggio di Ermione Nel racconto d'inverno Secondo me è costruito Secondo le caratteristiche Dello scorpione Vediamo Cioè Lo scorpione È il segno Dicono appunto Gli astrologi I grandi astrologi Che è a casa sua Con le cose più profonde Cioè Per voi Quello che per noi È pazzesco Angoscioso Sepolto Inconscio Magmatico Per noi Di tannozze Sì Cioè È la quotidianità Per voi Ecco E Anche lì Pesatori Paragonano Lo scorpione Ha una statua Che Ha la bellezza Di una statua Che però Scende Travalica Travalica La fissità Della bellezza Ed è esattamente Quello che fa Il personaggio di Ermione Nel racconto d'inverno Un'opera poco conosciuta Dei tardi Romance Se si chiamano questi Una donna Accusata Di tradimento Delle cose Mandate in prigione Che vive quindi Nei sotterranei E Shakespeare Rappresenta I sotterranei Dell'essere umano Con i sotterranei Della corte di Sicilia Lì però Dà alla luce Una bambina Quindi lo scorpione Anche rigenerazione Alla fine Verrà creduta Morta Apparirà come Statua Tombale Ma non è morta Mette questo piede Giù Dalla statua E rinasce La cosa terribile Che non perdona Il suo accusatore E beh La ricerca La ricerca Della verità Più sommersa Dello scorpione Non vi permette Di perdonare E Di perdonarvi Eh è vero Hai ragione È vero Mi ritrovo In questo Per certi versi Il personaggio di Ermione Di questo racconto D'inverno È di una bellezza E di un fascino Pazzesco Veramente Sembra di stare davanti A La rappresentazione Della morte Ma nel senso Stavi andando tanto Attenzione Che hai appena detto Che io non perdono Faccio notare Io ho un sacco di amici Scorpione Io vi voglio bene Benissimo Ti sei salvato in corne Allora No scherzo Adesso a parte di scherzi Invece volevo Grazie intanto Di queste due Spiegazioni Grazie No ma volevo Parlare del tuo laboratorio Sì In primavera Che succederà? Allora in primavera Stiamo organizzando Un laboratorio per attori Su monologhi di Shakespeare Il progetto si chiama 12 E quindi io sceglierò Selezionerò 12 attori Ciascun attore Lavorerà Sul personaggio Del proprio segno Perché La mia ricerca È una ricerca Adesso Veramente Storica Io non chiedo Al pubblico Di credere All'astrologia Non è compito mio Io ci credo E quindi La seconda parte Del progetto È per chi Se ne interessa Di affrontare Il personaggio Shakespeareano Quello del proprio segno Quindi L'attore Dello scorpione Affronterebbe Uomo Donna Che sia Il personaggio Dermione Partendo da un presupposto Che un attore scorpione Abbia quelle energie Come le chiamo io Psicofisiche Del segno Che ci possa quindi Lavorare Da dentro Conoscendolo In maniera istintiva È giusto Bene Ed è un appuntamento Questo che comunque Vogliamo ricordare I nostri spettatori Per avere Ecco più Nel dettaglio Ecco delle anticipazioni Dove possono Tutto verrà comunicato In primavera Sui social Del progetto Dello zio Willy E quindi ci stiamo Lavorando Bene E sempre tramite Gli stessi social È possibile acquistare Proprio questo volume Giusto Ecco Il primo frutto Della ricerca Lo vediamo Che è andata Anche avanti Quindi Questo volume qua Si occupa soprattutto Del Romeo e Giulietta Quindi ce n'è Per il Capricorno Per esempio E poi affronta I personaggi Di Romeo Mercuzio E Benvolio Bene Allora Grazie Enrico Petronio Grazie a voi Adesso vi spiego Shakespeare Forse E noi Io intanto vado A mettermi dietro Grazie Non tornerà più Enrico Petronio Vado a mettermi Dietro la camera Perché la prossima intervista Veramente me la voglio gustare Ben bene Perché vedremo appunto Un duo comico In una veste inedita E che solitamente Invece siamo abituati A vedere così Vediamolo Duo comico Venite al volo Chi è Gigi E chi è Ross Ciao a tutti Sono Mattere Tereteo E ho cantato con Tina Taratara Turner In Italia c'è qualcosa che non va In Italia C'è qualcosa che non va Perché? Figuriamo che Sevaglioni ha scritto un pezzo per voi due Cosa mi si nasconde dietro questo successo? E tu 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 Oh 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 Buonasera Buonasera e benvenuti a Made in Sud Ross Ciao Gigi Che cosa ci fa Carlo Cracco in un bagno Sta cucinando l'anno Tra i pc in due Cabinetto Gabriel prende la lettera Con la mano destra E allora Destra Poi capitano cose strane Avvenimenti particolari Eccoci Ci siamo? Beh Gigi e Ross al mio fianco È un onore È una simpatia immensa Averli Benvenuti Salve Salve Siamo noi Gigi e Ross Sono loro Rossi in cassa 4 Grazie Sì eccomi Ecco Quindi quelli che è il calcio Ragazzi Colorado Zelig Made in Sud Ma in questo video C'è tutta o quasi La vostra carriera Quindi in tre secondi In tre secondi In un minuto E poco più abbiamo Il video più breve Che tu vi avevi trasmesso Insomma Sì sì Ma volutamente Perché Vi do il benvenuto Perché intanto Grazie per aver scelto Classic Drive Art Live Per parlare questa volta Però di un progetto Alquanto importante Cioè Avete ideato Un volume Che riguarda appunto L'inquinamento E Diciamo Quello che È successo dopo L'inquinamento Che succede dopo Di solito L'inquinamento La maledizione dell'acciaio Scritto da Oreste Ciccariello Che poi Avremo qui Anche lui Anche gli Introdotto È un video Di Introdotto È un video di 30 secondi Di 30 secondi Bravi pubblicità Quindi la maledizione Dell'acciaio Quindi la Diciamo la storia Ruota Lo dico meglio Intorno al Little Seeder Di Bagnoli Quindi si parla di Napoli Da quale esigenza Nasce L'idea Di parlare Di un tema Così delicato Proprio Vari sinonimi Per dire poi La telepatia A volte Prego Chi vuole iniziare E come è nata È nata Il libro è questo Prima di Eccolo Poi tanto lo vedremo anche in foto Perché abbiamo anche la foto Della copertina Nasce Da un'idea Un parolone Nasce più dall'insonnia Dalla Dalla dannata Voglia di dormire Ma di non riuscirci Qualche estate fa Due Tre Stati fa Ci siamo sentiti di notte Io e Gigi Insomma Appuntammo Delle sensazioni notturne Da lì in poi Insomma Ne è nata una sceneggiatura Nella quale Sceneggiatura Ha Come dire Lavorato a piene mani Anche Oreste E a un certo punto Della sceneggiatura Oreste decise di romanzare Quello che avevamo appena Iniziato a scrivere Quindi Diciamo Il tema importante C'è anche una parte inventata Che è quella più Fantasiosa Più romanzosa No? Raccontateci Molto dalla realtà Ecco Certamente Sì perché in realtà Come dicevi tu Si parla dell'Ital Cedar Di questo mostro Che poi non è stato Almeno in principio E All'inizio Del suo percorso Perché Venne creata Negli anni 30 In un'area Che era meravigliosa Prima si parlava di bellezza La bellezza che doveva essere No non parlavo di La bellezza del territorio Che Come prima si diceva Doveva essere usata E' stata usata Particolarmente male In quel periodo Perché Un territorio meraviglioso Dove c'erano mare Vene E' stupenda Infatti perché? E' stata costruita questa fabbrica Che in realtà ha portato Poi tanto benessere In quel periodo Ma ha limitato Esatto Molto limitato Limitato Insomma ci fu uno sviluppo economico Napoli diventò una capitale industriale In quel periodo Dopodiché Una volta abbandonata Questa fabbrica Di questa fabbrica E' rimasto soltanto Questo scheletro Che tanto male Che poi tanti scheletri ha generato Insomma Con l'inquinamento Esatto E in realtà L'idea di fondo Era quella di Un po' come Peter Parker Da un grande potere Deriva una grande responsabilità Ma qui da una grande responsabilità Che può essere un problema Deriva un potere E infatti Il protagonista Massimo Mancini Nel corso di quest'opera Oltre a Combattere Questo mostro Con le armi Dell'uomo comune Riuscirà a farlo anche Con le armi Le stesse armi Del mostro Di Ritalzide Acquisendo dei superpoteri E questo è molto carina Questa idea Di che avete avuto voi Che ha avuto Oreste Ma come vi siete conosciuti Con Oreste Avete chiaramente La terra è la stessa Quindi l'amore Per la propria terra Sì a parte L'amore per la propria terra Insomma ci conosciamo Da dieci anni Perché Poi lo scoprirete Vedendolo in video Anche lui era Un componente E protagonista Di Made in Sud Faceva parte del trio I malincomici Come noi I malincomici Facevano la parodia Di Harry Potter E del volo E ha sempre avuto Insomma la passione Per la scrittura E proprio nella mensa Rai Dopo le visioni Postume a un pranzo Le visioni Decidemmo poi Hai mai mangiato In mensa Sì mi è capitato In effetti Però poco Volutamente Poco O primo o secondo Ne parleremo tra vent'anni Quando poi si manifesterà Aspetta Scriveremo la maledizione Della mensa Bellissimo Io faccio l'ideatore Tra una visione Tra una visione e l'altra Insomma Abbiamo sempre apprezzato Le sue doti Da scrittore È veramente molto bravo E gli abbiamo affidato Questo arduo compito Beh allora ragazzi È arrivato il momento Di conoscere questo ragazzo Perché ne abbiamo parlato Perché? Allora siamo Che sia un progetto Ragazzi Allora ordiniamo due caffè Qui al bar E li porta lui E li porta lui Bravissimo E va bene Abbiamo collocato Ecco adesso lo vediamo Purtroppo Eh vabbè Ormai l'abbiamo svelato Rovazzi È lui Rovazzi Rovazzi Va bene ragazzi Allora grazie intanto Per essere stati qui con noi Al volo Anche se al volo È stato un vero piacere Allora vediamo il book trailer Del libro La maledizione dell'acciaio E poi conosceremo Dal vivo l'autore Ciao ragazzi Ciao Ragazzi al volo Accade spesso Che la tua vita Sia il risultato Di quello che hai perso Non di quello che hai avuto Sai bene di chi è la colpa Ma puoi sperare Che tutto finisca Prima o poi Quando sembra che sia finita però Decidi di reagire Il mostro è troppo forte Ma se resti inerme non sopravvivi Quindi vale la pena combattere Io ho le armi per farlo Ecco beh Veramente un bel biglietto da visita Ecco non c'è che dire Essere introdotti da Gigi e Ross Benvenuto a Oreste Ciccariello Benvenuto a Oreste Ciccariello Sei giovanissimo Classe 1993 E hai iniziato all'età di 10 anni Quindi è morti già nel campo artistico Nel teatro Ecco prima di parlare del romanzo Volevo chiederti Quanto è stato breve Il passo dal campo teatrale A quello autoriale? Beh in realtà sono due percorsi Che andavano proprio di pari passo Perché insieme allo sviluppo Artistico e attoriale Procedeva anche quello autoriale Personale Ma anche dei miei due colleghi Uno è mio fratello L'altro è un mio caro amico Abbiamo sempre scritto Le cose che portavamo in scena Ovviamente poi dal lato comico Passare a quello drammatico Nel senso proprio di scrittura Di un romanzo Quindi impostare una struttura E una storia Lì c'è voluto un po' più di studio anche Però uno studio non teorico Ho letto e ho cercato di imparare Come a teatro devi guardare E imparare Quindi rubare dalla scena Io ho rubato dalle letture Che ho fatto nella vita Senti Oreste Parlavamo prima di materiali tossici Che purtroppo contaminano la nostra terra In questo caso Vabbè il sud In particolare L'Ital Cedar di Bagnoli L'Ital Taranto eccetera Ma quindi questo è il fulcro Bagnoli Fulcro della trama Lo stabilimento che è stato poi Dismesso nel 2016 fortunatamente Sì Quante storie hai raccolto Quante storie hai raccolto Prima di raccontare questo libro Quella di Massimo Prima di raccontare quella di Massimo Il giovane protagonista E poi soprattutto Ti sei ispirato a qualcuno? Allora partiamo in primis dal fatto Che devo ringraziare Gigi e Ross Perché loro non saranno tanto felici Di questa cosa che sto per dire Vediamo Io quando l'Ital City era chiuso nel 92 Non ero neanche nato E loro si arrabbiano Anche io non sono tanto felice Devo dire la verità Mi associo a Gigi e Ross Di questo fatto che io li definisco Un po' più vecchi Però loro mi hanno fatto conoscere i luoghi E mi hanno fatto conoscere Tante storie Il personaggio di Massimo in sé È una dedica A un nostro collega di Made in Sud Che purtroppo venne a mancare Durante la trasmissione Che è stato un po' Il nostro supereroe umano Perché è andato in scena Fino all'ultimo Sapendo il male Che aveva dentro E quindi è una dedica a lui Più che ispirarci invece Per quanto riguarda La storia dei personaggi Ci siamo ispirati alla voglia di combattere Alla forza di volontà Di speranza Che c'è Che c'è in quei posti Abbiamo cercato di Metterli in questa storia Portando quindi Non una storia di vendetta Una storia Di supereroi dark Ma una storia molto Allegra In certi punti di vista Anche se il tema È parecchio pesante E certo è pesante Ecco in questa sede di giustizia In quanti potranno riconoscersi? Ma noi diciamo sempre Che questo romanzo Sfiora un po' tutti Perché Chiunque ha perso qualcosa nella vita Chiunque lotta per qualcosa Quindi Tante persone Verranno o sfiorate O colpite in pieno Da questo romanzo Infatti La dedica iniziale È proprio per chi crede Nelle cose in generale Perché se uno crede in qualcosa Normalmente Riesce ad ottenerla Quindi è un po' per tutti Bene Bene Grazie per essere stato con noi Adesso Ricordiamo Volevo soltanto ricordare Appunto che è appena uscito Questo romanzo Dal 10 gennaio Quindi facciamolo anche vedere Aspettiamo Ecco anche la copertina di nuovo Vediamo la regia Ce l'ha anche in mano L'abbiamo visto anche lì Perché con questo bellissimo sfondo Che in realtà È bagnoli È bagnoli È bagnoli Delle informazioni Edito da roggiosi editori Un'idea di Gigi Ross L'abbiamo detto Con la prefazione del magistrato Dottor Catello Maresca Perfetto Scritto da lui Oreste Ciccariello Complimenti Oreste Benvenuti Grazie Bene Ora noi ci prepariamo In realtà a fare un salto Verso la musica d'autore Dopo questo videoclip Bene Se il tempo sta cambiando Se il vento sta crescendo Se il mondo sta cadendo Su di noi E c'è chi sta gridando E c'è chi sta dicendo Che è già finito il tempo Degli eroi Riprendi a camminare E smetti di volare Annusa la tua terra E resta giù Calpesta la tua roccia Coltiva grano e vino La tua ragione Non tradirla più Riprendi a camminare E smetti di volare Falla sentire quella voce che Calpesta la tua roccia Calpesta la tua roccia Coltiva grano e vino Scrivi sui muri Amiamoci di più Scrivi sui muri Amiamoci di più Amiamoci di più Nel weekend di San Valentino Non potevamo dare messaggio migliore Con il primo singolo Estratto dall'album Il mestiere di vivere Al mio fianco L'autore e interprete Ernesto Bassignano Benvenuto Benvenuto Allora abbiamo appena visto Il tuo ultimo lavoro Musicale Ma vorrei tornare indietro Di qualche anno Qualche decennio Qualche lustro Qualche lustro Pochi lustro Che sarà Gli anni del folk studio Sì 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 Ecco quanto è stato importante Per te quel luogo Nella tua carriera È stato quasi tutto Perché io facevo lo scenografo Ho fatto scenografia a Roma Eccoli là i giovani Infatti li vedevamo Sì C'è Roma in quattro Insomma io stavo facendo Il teatro di strada con Volontè Che era un teatro di provocazione politica In giro per le strade Controinformazione A un certo punto Un jazzista molto famoso a Roma Della New Orleans Mi ha detto Guarda che c'è un posto In via Garibaldi Dove ci sono già tre ragazzi Anzi due più Chiarista di Francesco Che era Locascio Che E li vediamo Che cantautori E che cantautori Allora sono arrivato là Siccome ero il più vecchio Il più politicizzato Giancarlo Cesaroni Che era detto il boss Mi ha nominato capo Immediatamente E sono nati I quattro giovani del folk Sì Lo so che pochi giorni fa Te che te che te Ci hanno celebrati Mentre che lo facevamo Con gli rifessi Perché tra l'altro C'è pochissimo materiale In giro Perché L'unico che fotografava Filmava tutto quanto Così massari Che non c'è più E ha avuto l'acqua in cantina E pochi anni fa È andato perso Quasi tutte le foto Abbiamo pochissime cose Del folk studio Di via Garibaldi Perché poi siamo andati In via Sacchi Dove c'è stata la seconda ondata Agli anni Ottanta Quella più politica La prima era molto jazz Folk Io quando sono arrivato là C'era Rob Bradley For Studio Singer E tutte le serie Anche con noi Insieme Cantavamo Nobody knows Andavamo tutta l'America Poi pian pianino Ognuno di noi ha scritto Prendevamo 3000 lire a sera E cantavamo Tre canzoni Con quelle 3000 lire lì Andavamo Pizza Sigarette Donne Erano altri Davanti alla porta Del folk Via Garibaldi E ho fatto ricordare Questa cosa Che si entrava Ed era già spaventoso Perché a sinistra C'erano delle sagome Chiudo gli occhi E ricordo C'erano delle sagome Iper realiste Di plastica Di tutti gli scultori Di trastedere A destra c'era La biglietteria Con la sangria E lì Mestolate di sangria Per cui a metà serata Erano già tutti imbriachi E la musica sortiva Che era una cosa meravigliosa Poi c'erano Circa Cento persone Che fumavano Tre sigarette a testa Per cui il palco Non si vedeva Era blu L'alnosfera Era blu Ogni tanto Qualcuno usciva Respirava Inversione Una Woodstock De Nuante Ricordo anche Un po' triste Ogni tanto C'era qualche pantegana Che passava Fra i piedi Però non fumava No Moriva Di fumo Ogni tanto Sentiva qualche donna Qualche ragazza Così Perché era passata Una pantegana E aveva toccato i piedi Era un po' Così Però molto pittoreschi Molto pittoreschi E' venuto Cuccini E' venuto Andresso Tutti Ho visto Gocciante Prima In una delle foto Sì sì Ma tutti Sono passati tutti E' passato anche Bob Dylan Io non l'ho visto Nel 63 Ero ancora a culo Nel 63 Nel 63 è venuto Bob Dylan E pare La storia dice Che il nostro boss Cesaroni Che non lo conosceva Lui è venuto a cercare Susi Rotol Che era a Roma Gli ha detto Oh fai fretta Avrò due canzoni E andare via Perché qui Più di due Più di dieci minuti Non ti do E gli ha fatto Blowing the wind E Mr. Timmer E poi l'ha spedito Pazzesca questa cosa A ricordarla Senti Ernesto Quando si parla di canzoni d'autore Si parla sempre un po' Di una definizione Dai contorni un po' sfumati Ecco volevo chiederti Dagli anni 80 In cui piano piano Un po' i motivi politici Venivano un po' meno Nelle canzoni d'autore Ad oggi Quanto è cambiato Questo concetto Tutto Completamente Intanto non c'è più La canzone politica La canzone di lotta Che noi facevamo Io in particolare Negli anni 70 Poi c'era la scuola genovese A cui io faccio In qualche modo parte Perché Cuneo È un po' Per cui le mie origini Sono Tenko Lauzi De Bindi Tra l'altro con Bindi Ho lavorato per dieci anni Ho stato l'autore Delle sue ultimi dieci anni Delle sue canzoni Poi c'era Bologna La scuola bolognese Dalla e gli altri Kip Poi c'era la scuola romana Che eravamo noi Anche se è tutto ridicolo Parlare di scuole Perché solo quella genovese È stata una vera scuola In realtà a Roma Io ero Tenko Della situazione De Gregori Era proprio C'era C'era Antonello Che invece era L'Elton John Per cui di italiano C'era quasi niente Però la chiamavano Scuola romana Piano piano Negli anni 80 Tutta questa cosa Per cui noi avevamo combattuto Questa canzone D'autore italiana Un po' più francese Che americana Per cercare di spostare Di uscire dal country Dei cowboy È morta Con Cocciante Finita con Margherita Finita con Quindi con gli anni 80 Poi pian pianino Ognuno ha fatto La sua canzone D'autore Questo non vuol dire Che non siano nati Appunto i Ruggeri E poi ultimamente I Silvestri Gli amici cristichi Che ho votato io A Recanati Li ho seguiti tutti Uno per uno Ancora ci sono Attenzione c'è un commento In diretta Bravissimo Baxi Quindi Si è saputo Che il mio ultimo Salutiamo Paola Grazie mille Bax perché Bax perché Nei miei dieci anni Ho perso il trend A Radio 1 C'era Bassiano e Luzzi Era Bax e Lux Per cui per tutti Dopo essere stato per anni Basinger Sono diventato Bax Basinger Io ti ho visto Sul motorino Sul Solex Sul Solex Visto che non parliamo Questa volta L'accenno Un album degli anni 80 Che si chiama Basinger E tutti mi chiesero Ma che c'entri tu Con Kim Basinger No No Perché in America C'era Kissinger Che era L'uomo di Nixon E io ero Basinger Che era L'uomo di Berlinguer Il consigliore Culturalmente Per cui ero diventato Basinger Senti io prima di chiudere Volevo ricordare Il prossimo appuntamento Con la tua musica dal vivo Ah ecco Sì E beh Grazie di questa occasione Perché Faccio subito Una propaganda orrenda Vai al volo Meravigliosa Lunedì 25 All'auditorium A Sala Borgna Con Bax Con un quintetto Di jazzisti mostruosi Presenta Il mestiere di vivere Il suo nuovo disco Che in questi giorni Sta mietendo Alcuni bei successi Con Tutto dedicato A Cesare Pavese E al mio Piemonte Bene Io volevo solo ringraziare Perché in diretta È arrivato un altro commento Vedi C'erano persone che seguono E abbondantemente Di Mireia Flavia Stellato Che dice Che le iniziative Come queste dovrebbero moltiplicarsi Lo faremo Lo stiamo facendo Continueremo a moltiplicarsi L'Italia del futuro Probabilmente sarà questa Fatta di migliaia Di piccole occasioni Per ricominciare A tessere quel filo Quel filo rosso Che si è spezzato Per cui Solo la televisione vale E invece no E invece no Ci sono le librerie Ci sono i piccoli posti Come l'Arciliuto Dove io lavoro Dove si scoprono le cose Si prendono libri Si dicono le poesie E si canta Le canzoni d'autore Bene Ernesto Grazie per essere Viva la musica Sempre Quella diciamo Importante Quella serie Noi invece parliamo Ora di viaggi Questa settimana Arriveremo con Ilaria Berti La nostra cara amica Bionda Rossa Fuxia Mora Mora Mancava Mora Manca la Mora Cangiante Cangiante Bravissima La nostra amica Cangiante Che ci porterà A Civita Di Bagno Reggio Quindi vediamo subito Il video Ciao ragazzi Ma quanto tempo è Che non ci vediamo Che meraviglia Di trovarvi di nuovo Tutti qua Io mi stavo Andando a mangiare Una cosetta Ma nel frattempo Vi ricordo Che vi avevo promesso Che oggi Vi avrei portato Nel Lazio E più precisamente Vi porterò A Civita Di Bagno Reggio Intanto che mi vado A mangiare Due spaghi Vi auguro una buona visione Ci vediamo più tardi Ciao Situata al confine Con l'Umbria In vista della Valle del Tevere Civita di Bagno Reggio È un suggestivo Borgo della provincia Viterbese Che rischia però Di scomparire Per sempre A causa dell'erosione Il suo destino Era forse Già stato scritto Da Bonaventura Tecchi Che l'aveva denominata La città che muore Una sorte Che oggi Sembra più realistica Che mai Perché il colle tu faccio In cui sorge È minato alla base Sia dalla continua erosione Di due torrentelli Che dalle piogge E dal vento Considerato uno Dei borghi più belli D'Italia È stato fondato 2500 anni fa Dagli Etruschi E sorge Su una delle più antiche vie Quella che inizia Dal Tevere E finisce E finisce nel lago Di Bolsena Civita di Bagnoregio È raggiungibile Solo a piedi Attraverso Un suggestivo ponte Che c'è tra le viuzze Medioevali Tutto il borgo È infatti Un'impronta Medioevale E un'atmosfera Familiare Ferma Nel passato Caratterizzato Da archetti Cortini Piazzette Case Medioevali E rinascimentali Spesso All'ora interno Si trovano Graziose botteghe artigiane In cui si può entrare Per assistere Ad antichi mestieri Passeggiando In questo tortuoso Dedalo Fatto di spazi Inconsueti E di viuzze Affacciate sul vuoto Lo sguardo È rapito Quella da svariati scorci Verso la valle Dei Calanchi Al tramonto Si colora Di strane tonalità Offrendo Curiosi giochi Di luce ed ombre Tra gli affilati Crinali E la rada Vegetazione Formando Un quadro Paesaggistico Ancora più surreale Che sembra Voler urlare Al mondo La voglia Di continuare Ad esistere Oh ragazzi Sono fatta Una magnata Che non potete capire Io spero Che questo Nostro Innesi incontro Si fa di vostro Gradimento Per me È sempre Un grandissimo Piacere Vi aspetto Alla prossima puntata Dove vi porterò In Abruzzo Nel frattempo Un grossissimo Baccio a tutti quanti Scusate Allora da Civita Di Bagnoreggio Quindi la città Che muore I posti bellissimi Quelli in cui ci parte L'aria aberti Molto belli Brava L'aria aberti Complimenti Veramente Sempre un bacio Fortissimo Un abbraccio Da parte mia Esatto Che veramente Una ragazza Però posso dirti Che non da meno È il prossimo Contributo Che introduce Il prossimo ospite Assolutamente no L'aria 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 Continuiamo a parlare L'idea di scrivere Questo libro Soprattutto Cosa è l'impossibile Ma non troppo Allora L'esigenza È stata quella Di trovare Una strategia Per superare Un momento difficile Perché la mia Coautrice Ha il Parkinson Sì E la malattia Spesso Significa limiti Ed ostacoli Così le storie Che ci siamo Raccontate E che poi Io ho scritto Per tutte e due Sono diventate Un libro Soprattutto Nel momento In cui Ovviamente Hanno incontrato L'editore L'editrice LDC Sì Ha permesso Che il nostro Impossibile Si Trasformasse In realtà E perciò Con grande competenza Con cuore E fantasia Hanno realizzato Un bel libro Curato Proprio Anche nei dettagli Fruibile E Che ha Catturato subito L'attenzione E la passione Dei lettori L'impossibile Ma non troppo È la certezza Di potercela fare Anche quando Sembra Che tutto Sia Contro di noi Bene È una speranza Però Non Campata in aria Perché è frutto Magari Di lacrime Fatica Sudore Però È la certezza Che si possono Vincere Le difficoltà Esatto Esatto Federica Ti interrompo Un attimo Ma impossibile Anzi Irraggiungibile Lo hai definito Così Era il traguardo Di vendere Molte copie Di questo Di questo romanzo Che ha Un anno e mezzo Ecco Volevo chiederti Proprio in questo periodo Qual è appunto Il bilancio In qualche modo Di queste storie Di cuore E fantasia Ma guarda Per me Ed Anna Maria Il bilancio Migliore È quello Che abbiamo capito Che l'impossibile Si può realizzare Davvero Sì E questo è Quello che condividiamo Anche con tutto Lo staff Dell'editrice LDC La nostra esperienza Anche grazie Ai feedback Dei lettori È che L'impossibile Si realizza Attraverso L'amore Inteso come Attenzione Verso gli altri In una società In un contesto In cui invece Si tende ad essere Molto più Egoisti E indifferenti Poi L'altro bilancio Sono le copie vendute Sono i lettori Che hanno trovato Una Una risposta Alle loro domande Leggendo le nostre storie Sono tutte le iniziative Che abbiamo promosso E che continuiamo A promuovere E sono Anche Quei piccoli Contributi Che con i diritti D'autore Riusciamo a donare A una Onlus Di cui Siamo socie Che è Il nodo Sulle ali Del mondo E che si occupa Di assistenza Di aiuto Al disagio Giovanile E perciò Il nostro Il nostro Il nostro Contributo Per un mondo Un po' più possibile Più umano Molto bene Noi apprezziamo molto Questa iniziativa E come tutte le iniziative Del genere Devo dire che Grazie a voi Che siete Che scrivete Che diffondete Che pubblicate In questo senso Ecco Io mi auguro Che poi I giovani Soprattutto Possano trarre Esempio E forza Da queste storie Anche quelli Che non hanno Delle malattie O comunque Non hanno Dei problemi fisici Certo E soprattutto Noi desideriamo Raggiungere I giovani E non solo I giovani Perché queste storie Dicono qualcosa Ai lettori Di tutte le età Certo In particolare Poi lavoriamo Con i giovani Perché stiamo facendo Molti laboratori Di lettura E scrittura Proprio usando Le nostre storie Ecco Questo dove A Genova dove però Io sono Io abito a Genova Lavoro a Genova Ma i laboratori Li facciamo Un po' dovunque Li faccio un po' dovunque Quando mi riesco a muovere Ok Bene Federica Io Noi ti ringraziamo Io non posso che ringraziarti Oggettivamente Per aver scelto Di essere appunto Nostra ospite Al telefono Da Genova Scusami Mi l'ho dato Una Una Questa era sempre Un lapsus Chiamiamolo così Sì No dicevo E ricordiamo dunque Il romanzo Impossibili ma non troppo Storie di cuore E fantasia Di Anna Maria Frison E Federica Storace Storie dedicate a tutti i ragazzi Lo ripeto E che aiutano A soggettare il cuore Oltre l'ostacolo Bene Grazie Grazie Federica Grazie Federica Per essere stata con noi Grazie a voi Un caro saluto A presto Ciao Grazie Arrivederci Ciao Devo dire Una bella lezione di vita Molto Non c'è che dire Senti però È finito il tempo A nostra disposizione Quindi so che ti dispiace Tantissimo Sì guarda Veramente È un grande dispiacere Anche se rido Per non piangere Lo so hai ragione Senti Parliamo di cose serie Volevo ricordare appunto A chi ci sta guardando Che se la puntata appunto Vi sta piacendo Potete mettere un like Alla pagina Sta piacendo Sta piacendo Che dice il nostro Luca Ci conferma Sì sì Luca è impassibile Il nostro regista Luca Calvaresi Ricordiamolo Lo ricordiamo Lo ringraziamo Ecco perché Che cosa ricordare La nostra mail Info Chiocciolaclassicdriveart.com Qui inviare appunto Le richieste Per essere ospiti Delle prossime puntate Ma seguite con un like Anche la pagina Facebook Classic Drive Art Cioè la nostra Mi raccomando Siamo giunti quindi Oggettivamente Decisamente Anche per limiti di orario E di pazienza Ringraziamo sempre La libreria Via piave Certo le ringraziamo Via piave Nulla non vi preoccupate A proposito di pazienza A proposito di pazienza Le ringraziamo Insomma Perché Che ci danno questo spazio E con molta pazienza E gentilezza e garbo Bene Ancora più ringrazio però Appunto Luca Carvalesi E la regia Tutte le persone Che collaborano con noi Il nostro pubblico Cioè voi Che siete sempre più Pazienti Affezionati Affezionati Sempre più numerosi Più numerosi Bene Grazie Un abbraccio a tutti E alla prossima puntata Sabato prossimo Grazie mille Ciao Ciao Grazie mille Classica